Buon pomeriggio ai telespettatori di TVQI e bentornati a questo appuntamento con Faccia a Faccia. Ospite oggi è la nuova, da un mese direi, segretario provinciale della CGL di Modena, Manuela Gozzi, buon pomeriggio. La sua presenza oltre che per essere un'occasione per presentarla e per fare quattro chiacchiere con il nuovo segretario della CGL dopo la promozione si può dire così di Tania Scacchetti a Roma e anche un'occasione per presentare la campagna referendaria che è partita proprio in questi giorni sui referendum che ci saranno su voucher e appalti. Io partirei da quello per parlare un po' della situazione del lavoro a Modena e in particolare il tema dei voucher. Nel 2016 i dati dicono che ne sono stati venduti circa 3 milioni in provincia di Modena, un dato incostante. Negli ultimi anni si è cresciuto sia rispetto al 2015 che rispetto al 2014. È un allarme, la vostra posizione è netta. Il quadro qual è? Il quadro è che appunto non solo la nostra posizione è netta, è che nel corso degli anni, visto che i voucher ci sono da 2002-2003, è cambiata la natura dell'utilizzo dei voucher. All'idea che sia più o meno triste andare a comprare un foglietto di carta in tabaccheria, che già questo mette tristezza di suo, però c'è proprio l'elemento che uno che lavora a voucher non ha tutta una serie di diritti a partire da una vera copertura previdenziale e di conseguenza è un lavoro che non fa cumulo rispetto a un percorso lavorativo, ha proprio l'elemento che invece che essere utilizzato per dei lavori saltuari, quello che è nato per essere una modalità che doveva portare in chiaro il lavoro nero, oggi nasconde attraverso una parziale legalità tanto lavoro nero. Mi spiego, ci sono tanti ragazzi e ragazze che hanno denunciato, parlo in particolare dei giovani, che prestano lavoro per 4-5 ore con un voucher da un'ora in tasca che se arriva a un'ispressione è regolare essere in costanza di quel tipo di rapporto di lavoro e il resto delle ore viene retribuito ancora in nero. In più c'è l'elemento che nel corso degli anni sempre più i voucher sono stati utilizzati non solo in modo improprio ma anche dentro le imprese industriali e quella non era una caratteristica del voucher nato per regolarizzare lavori saltuari e molto brevi e per alcune figure professionali. Mi ha parlato dei voucher, tra l'altro forse voi su questo proprio lo strumento in sé chiedete che venga abolito, anche per quelle categorie dove finora veniva applicato. Però chiediamo che venga sostituito con uno strumento che tenga conto delle specificità, però che deve essere una forma di lavoro degna di essere chiamata lavoro. Il tema dei voucher si inserisce in qualche modo con quello in generale dello sfruttamento e del mancato rispetto delle regole in alcuni settori in particolare. È recente lo scontro in particolare sul settore macellazione carni con il comparto della zona di Castelnuovo che ha visto dure proteste da parte del Cobas in particolare ma anche voi. Però da questo punto di vista la posizione degli autonomi e dei confederali è distante tanto è vero che anche recentemente voi avete sempre rifiutato di sedervi anche a affrontare un dialogo con gli autonomi. È possibile, visto che immagino che anche voi la denuncia del problema arrivi anche da parte vostra, è possibile trovare così, fare fronte comune anche col Cobas su questo... Se è vero che il problema è reale? Allora, dividiamo la risposta. Che ci sia il problema, il problema è reale. La differenza di solito tra le organizzazioni sindacali in questo caso non è data dalla volontà o meno di sedersi allo stesso tavolo. Visto che in tante esperienze ci siamo seduti allo stesso tavolo. C'è una differenza rispetto a qual è l'obiettivo che ci si pone. Allora, nei confronti del comparto Carni, dove con la stessa amministrazione provinciale è stato aperto un tavolo provinciale che dovrebbe determinare il raggiungimento di un'intesa, confederalmente noi abbiamo contribuito alla legge regionale per la legalità negli appalti e lì non c'erano i sindacati non confederali. Dall'altro canto c'è l'elemento che rispetto all'obiettivo da raggiungere per noi sono fondamentali gli elementi che avevamo raggiunto nell'accordo fatto con il prefetto di Bari esattamente un anno fa, il 16 febbraio, che vedeva nei suoi contenuti una gradualità nell'applicazione contrattuale dell'alimentazione, perché quei lavoratori oggi applicano il contratto del facchinaggio, mentre molti di essi lavorano sulle linee di produzione. Questo non è un obiettivo dei Cobas. Per i Cobas l'obiettivo è regolarizzare le posizioni, ma non quello dell'applicazione contrattuale. Noi abbiamo consegnato al prefetto più di 100 denunce rispetto alla mancata applicazione delle norme contrattuali, delle norme minime di dignità nei confronti delle persone di tutela dei diritti. Abbiamo obiettivi, non dico diversi, perché alla fine tutti abbiamo l'obiettivo di tutelare i lavoratori. Però se parliamo del caso specifico, parliamo dello stabilimento Alcar 1 dove ci sono questi 55 lavoratori che prestavano servizio alla cooperativa Alba Service, che Alcar 1 della famiglia Levone ha deciso di interrompere il rapporto con Alba Service e questi sono di fatto senza lavoro. Per difendere questi posti di lavoro, questi 55 lavoratori, i Cobas, gli autonomi fanno sciopperi picchetti continui di fronte all'azienda. È giusto questa forma di protesta? Perché non siete al loro fianco? O se lo siete, in che modo? Perché noi stiamo cercando di acquisire, e questo è anche quello che dice il testo del referendum, del secondo referendum, quello sulla responsabilità insolita del committente di acquisire la clausola sociale, quindi la garanzia che davanti all'accessione di un appalto si mantenga il posto di lavoro per le persone. I Cobas non stanno facendo la battaglia rispetto al mantenimento dei 55 lavoratori, ma di avere un indennizzo adeguato perché la legge oggi consente di smettere un appalto con un preavviso. Sono due modalità diverse per raggiungere un obiettivo. Per me l'obiettivo è l'occupazione. Per me l'obiettivo è che le persone lavorino con diritti e nel rispetto dei doveri dentro una modalità di lavoro che sia quella, vuol dire, contrattualmente applicabile e nella correttezza dell'applicazione contrattuale. E in questo l'azione confederale, anche unitaria, è stata quella appunto di sottoscrivere la legge regionale legalità e appalti a seguito del patto per il lavoro, dentro la quale c'è scritto che c'è la clausola sociale anche per i lavoratori del privato. Con la clausola sociale non ci sarebbe stata la condizione della dismissione di quei 55 lavoratori, perché l'azienda avrebbe dovuto dimostrare perché non servono più e ragionare in termini di una riduzione effettiva della forza lavoro, non discriminando i lavoratori diretti dei lavoratori in appalti. Lei ha fatto cenno alla legge regionale sulla legalità, il testo unico anche approvato recentemente dal firmato, dall'assessore alle legalità Mezzetti. Su questo il vostro giusto è stato positivo. Alcuni sottolineavano come si tratti in realtà solo di un compendio. C'è qualcosa in più in quella legge rispetto solo a un riunire norme già presenti? Sì, c'è in più. È quello che dicevo adesso, che credo sia l'articolo 51, dove c'è scritto in chiaro da un lato che la clausola sociale deve essere applicata per tutti gli appalti del pubblico e un po' meno in chiaro, quello è un po' più in sindacal politichese, che vale anche però per il privato, tant'è che da quelle norme in diverse province, ci stiamo lavorando anche a Modena sul trasporto pubblico locale. Infatti veniamo qua per il trasporto pubblico, abbiamo fatto l'esempio del privato. Sul pubblico, lo dico perché su SET avete avuto una posizione invece, non invece, senza avversativi, nettamente critica. Sì, però non c'entra la clausola sociale. Infatti, lo dicevo per distinguere tra pubblico e privato. Chiaro, però è altrettanto vero che per completare il ragionamento, grazie al testo unico legalità e appalti, in diverse province e anche a Modena, in diversi accordi, si è riacquisito quello che interventi del governo come il Job Act avevano cancellato. E non sto parlando solo di articolo 18, penso proprio alla responsabilità insolido negli appalti e alla garanzia della continuità lavorativa qualora un'impresa perda l'appalto. Quindi un intervento nei confronti del massimo ribasso di più alta qualità e di maggiore garanzia di continuità lavorativa per le persone. Nello specifico proprio quello che è accaduto con il caso di Alba Service. Esattamente. Facevo seno prima, lo ribadisco, sul pubblico, invece sulle battaglie sul pubblico, è recente ed è anche, vi vede uniti anche con le altre sigle confederali, è una posizione nettamente dura e critica nei confronti della gestione di Seta e quindi dell'azienda di trasporto pubblico locale governata e presiduta da Vanni Bulgarelli, voluto dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Ecco, su questo la vostra posizione è notizia di pochi giorni fa l'annuncio di 4 ore di sciopero. Sì, premesso che noi non scegliamo il Presidente, quindi è vero, noi di solito ci confrontiamo con chi viene al tavolo. L'ho detto perché di solito c'è questa idea che la CGL a Modena abbia una linea più morbida verso le un'amministrazione di centro-sinistra, allora dico, questa volta no, no, no. Io credo che le volte siano state più di una, al di là di questo, nel caso di Seta, su Seta ci sono dei problemi seri e rilevanti che riguardano da una parte la gestione per quel che mi riguarda, essendo io segretario confederale, è sui due versanti, quello della tutela dell'occupazione dei lavoratori diretti di Seta e le ricadute che hanno sull'utenza, perché ho anche la responsabilità, mi consente di definirla così, nei confronti dei cittadini che fruiscono del servizio. Il problema di Seta è un problema grande, è un problema grande perché non solo perché abbiamo dichiarato 4 ore di sciopero e provato anche la mediazione prefettissia, c'è un organico che è insufficiente nei periodi come questo, dove ci sono le scuole aperte, dove c'è un utilizzo dei mezzi pubblici più alto che in altri periodi dell'anno, per esempio l'estate, dove l'inadeguatezza dell'organico presuppone un utilizzo aggiuntivo, quindi di prestazioni straordinarie e molto alto, che ricade sulle persone, dopodiché è facile la denuncia dire si ammalano, se le persone sono messe nella condizione di lavorare 15 ore al giorno continuativamente è abbastanza ovvio che prima o poi prendano anche... L'accento che lei ha fatto, lo faccio qua, perché voi avete usato parole nette, avete detto Seta, un'azienda di servizi, insomma la critica è stata netta e la risposta dell'azienda è stata guardate, qua c'è un boom di malattie e ha ventilato l'idea che fossero di fatto dei finti malati, dei furbetti. Sì, dei furbetti, ora non sono furbetti perché persone che stanno alla guida 13 ore al giorno mettono a repentaglio la sicurezza anche dell'utente, oltre che la loro sicurezza. Dei mezzi dove ci sono stati promessi investimenti e hanno un'età media di 18 anni, con gli ultimi che sono arrivati, che sono una ventina, siamo scesi a 15 anni di anzianità del mezzo, i manutentori di Seta non sono in grado di programmare l'intervento manutentivo perché sono davanti all'emergenza costantemente. Il problema che noi abbiamo posto è esattamente quello che sto dicendo, c'è un problema di organico, un problema che non si può ricorrere costantemente a prestazioni straordinarie per far fronte al garantire il servizio e non si possono utilizzare dei mezzi che non sono sicuri sia per gli autisti che soprattutto per coloro che prendono quei mezzi che quindi sono l'utenza ai cittadini. Questi hanno nelle mani la vita dei nostri figli alla mattina a mettere il portano a scuola. Non posso pensare che mio figlio vada a scuola con un mezzo che rischia di rimanere a metà della strada quando va bene. Sì, tra l'altro prima che esplodesse questa protesta e questo scontro così acceso tra sindacati e azienda l'hanno avuto ospite proprio Borgarelli e sottolineava come in realtà il problema si è dato dal continuo taglio di risorse che consentono da una parte il rinnovo del parco bus e dall'altro anche le assunzioni. A fronte di questo calo di risorse Seta aveva deciso poi in estate, lo ricordiamo, l'aumento del biglietto di corsa semplice da 1.20 a 1.50 e a bilancia alla mano i conti sono in positivo però dell'azienda. Appunto, quindi secondo me su Seta c'è anche un altro pezzo di problema che è quello legato ai rischi che oggi Seta corre nell'andare a gara perché esattamente come a Parma che non era servita, non è nel triangolo Modena-Reggio Emilia-Piacenza però è arrivata un'altra società che ha vinto la gara e adesso siamo alle carte bollate della burocrazia anche Modena-Reggio Emilia-Piacenza dovranno andare a gara nel quale noi chiediamo il rispetto, torno all'origine, della clausola sociale per dare garanzie però chiediamo anche che la gara, chi vince la gara garantisca mezzi sia in termini di risorse umane che di risorse economiche adeguate a fare fronte al servizio oggi Seta non è in quella condizione Sì, non è in quella condizione, ripeto, lo scontro è stato acceso avete avuto modo anche di confrontarvi col sindaco di Modena su questo? No, noi abbiamo seguito solo la via sindacale che è quella che le categorie di riferimento con tutte le sigle sindacali che lei richiamava hanno indetto le iniziative dichiarato lo stato di agitazione e in questi giorni c'è stato anche il tentativo della mediazione prefettizia che non ha sortito il risultato quindi il 27 faremo 4 ore di sciopero garantendo le fasce orarie, la salvaguardia, il rispetto delle leggi e delle regole perché non faremo picchetti o presidi selvaggi ma rispetteremo le regole di questo paese La difesa, in questo c'è un po' un accenno polemico alla recente manifestazione del Cobas di sabato non autorizzata, immagino sia stato questo richiamo No, è andata così, è andata così, sabato scorso è stata questa manifestazione proprio per le proteste sul settore di macinazione e carni ci fu questa protesta non autorizzata a parte del Cobas Io rimanevo ancora un attimo sul settore pubblico perché la difesa degli impiegati pubblici è sempre un settore piuttosto forse anche a volte non così popolare mi soffermo un attimo su un dato recente uscito cioè sugli stipendi dei dirigenti pubblici del Comune sono 33, è stato scritto che il Comune spende circa 2,5 milioni di euro per i loro stipendi ma al di là del dato complessivo che dice poco è quello dei premi di risultato dati a pioggia ecco su questo sindacato, so che può apparire un tema populista ma si può in fondo, nella difesa dei diritti dei lavoratori casomai togliere qualche privilegio quelli che possono apparire agli occhi di un cittadino comune privilegi Premesso che noi siamo un sindacato che nulla può sui dirigenti che hanno un altro sindacato detto questo non è per scaricare la cosa ma bensì, non so se è sui giornali di questi giorni che negli incontri fatti con la Ministra Madia si sta cercando di rimuovere la norma Brunetta che vuol dire riappropriarsi della contrattazione di secondo livello quindi quello che lei richiama come premio di risultato sul quale si possono fare delle cose se ci viene dato il diritto di farle ma da quando era Ministro Brunetta quel diritto ci è stato tolto ed è solo dal protocollo di novembre che è scritto che ci verrà riconsegnato nel momento in cui ci sarà il rinnovo del contratto nazionale di dipendenti pubblici e questa norma diventa effettiva e fruibile allora si possono fare anche delle cose però al momento non ci è data la disponibilità di poterle fare sempre nel settore pubblico facevo un altro esempio quando richiamavo il fatto che la CGL in alcuni casi ha avuto una linea più morbida era sul caso della Polizia Municipale ad esempio dove c'è stato sempre il sindacato in questo caso era il SULP quello di categoria che aveva avuto una posizione nettamente contro l'amministrazione criticando la gestione anche del dirigente dei comandanti chiari con la vostra posizione un po' più intermedia ieri abbiamo ospitato in trasmissione il segretario provinciale del SUP e anche loro si sono mostrati più aperti verso l'amministrazione quindi in qualche modo avevate ragione voi? allora io credo che non sia mai una questione di chi ha ragione o chi ha torto c'è una differenza tra i sindacati confederali e i sindacati di comparto che sono più corporativi ognuna delle categorie della CGL ma questo vale anche per Cisle Will non solo per noi ha la responsabilità di vedere sempre il problema nel suo insieme e nell'accezione che ho richiamato anche io prima su Seta di cosa significa tutelare il dipendente e la ricaduta che c'è sul cittadino e questo vale per tutti questa è anche la differenza perché c'è un sindacato confederale per qualcuno e per qualcun altro non c'è quindi delle volte forse la minore incisività che può apparire in una azione è perché è legata comunque a una valutazione nel suo insieme non tanto nel rapporto che devo avere con l'amministrazione che quando è controparte è controparte alla pari di ogni controparte privata è nella valutazione se un'azione più rigida più pregnante anche produce poi quel risultato necessario al meglio o se delle volte è meglio la gradualità ormai credo che anche la CGL che per tutti è sempre stata quella che dice di no a tutto sia invece da molti anni non so se in particolare in questi anni di crisi non più tenera ma molto più legata al fatto che è meglio a me hanno sempre insegnato gliela dico così che è meglio un brutto contratto che un mancato contratto allora e per fare anche un brutto contratto bisogna che le due parti trovino dei punti d'intesa per fare un mancato contratto diventa molto più facile perché uno raccoglie i suoi fogli e va da un'altra parte ma poi si deve risedere al tavolo se da una parte l'azione del sindacato c'è ovviamente la tutela dei diritti dei lavoratori così il garantire il rispetto della legalità dall'altro c'è anche dinamiche interne e cioè quelle legate al numero di iscritti e alla vita interna del sindacato tra l'altro su questo ad esempio per tornare agli autonomi si sottolineava come stiate perdendo iscritti in particolare nel settore carni è così? Qual è la situazione degli iscritti a Modena? e temete una emorragia di iscritti? Assolutamente no anche perché il sindacato con cui si confrontano i Cobas è una delle categorie che in Cigiella e Modena ha aumentato gli iscritti nel corso del 2016 conseguentemente è vero che il sindacato perde degli iscritti ma li perde in misura inferiore a quello che è il calo dell'occupazione perché va sempre rapportato qual è anche il bacino dentro il quale si possono attingere poi le adesioni è indubbio che le forme di lavoro precario oggi presenti nel mercato del lavoro rendono più complicata la fidelizzazione dei lavoratori ma la rende più complicata anche nell'essere fidelizzati all'impresa non solo al sindacato perché la precarietà è sinonimo di incertezza e lo è per tutti quanti quindi non è che sia una condizione c'è proprio una condizione dentro il mercato del lavoro che fornendo incertezze determina come conseguenza abbastanza naturale quella che vi sia una minore fidelizzazione e minore iscrizioni alle organizzazioni sindacali però ribadisco non sono proporzionali alla perdita di posti di lavoro godiamo ancora di buona salute ci sono delle critiche diverse che vengono mosse al sindacato a partire da quello dei compensi dei dirigenti famoso è il caso quello della CIS ah non quello della CGL, basta andare sul sito e vedere quali sono le nostre retribuzioni c'è il tema delle retribuzioni della classe dirigente sindacale c'è il tema ad esempio per quanto riguarda la CGL l'uso dei voucher che è stato sottolineato con questo scontro anche col direttore dell'unità dell'uso dei voucher da parte della vostra categoria stessa le critiche sono tante, alcune pretestuose, altre fondate io vorrei chiudere questa chiacchierata chiedendole se in qualche modo lei si sente di fare un'autocritica e su che cosa? non lei in quanto persona ma in quanto sindacato c'è qualcosa su cui vi sentite di non stare facendo tutto quello che si può fare o di sbagliare? è complicato perché autocritica non piace mai a nessuno io credo che noi abbiamo fatto delle cose straordinarie in questi anni nell'aver avuto la capacità di governare le difficoltà della crisi e di rispondere da un punto di vista contrattuale sia da un punto di vista individuale che collettivo forse dovevamo fare qualcosa in più quando ci sono stati i provvedimenti della Fornero io di questo ne sono convinta che fosse possibile un'azione più decisa e più determinata il problema vero è che vent'anni di liberismo a prescindere da chi ha governato quindi vorrei che fosse chiaro che non è un'accusa un governo piuttosto che un altro ma li possiamo accomunare tutti hanno inculcato in modo così forte nelle persone un'assenza di solidarietà e un individualismo così spinto dove per chi mette in campo azioni collettive di massa come si dice il risultato è molto complicato oggi da raggiungere perché la paura prevale rispetto alla consapevolezza del bisogno che c'è di reagire ora è in questo che se faccio autocritica rispetto alla Fornero sono convinta che la carta universale dei diritti dei lavoratori che sono 97 articoli che ridisegnano il mercato del lavoro che affermano i contenuti della Costituzione sia una modalità attraverso la quale si può ricostruire anche quella solidarietà tra le persone di cui non solo hanno bisogno l'organizzazione sindacale e la CGL ha bisogno il paese perché il paese ha bisogno non di avere dei rischi di conflitti sociali ma di avere invece una società che guarda al futuro con positività sì, qui si allargherebbe molto il discorso forse è il tema del noi che si è andato un po' perdendo esattamente per citare Vasco visto che tra poco sarà a Modena con questo concerto che si annuncia è uno dei più grandi, il principale forse che si terrà in Europa da sempre addirittura però per citare Vasco si è passato da siamo solo noi a siamo soli e quel noi se ne sente la mancanza non solo nel sindacato probabilmente e noi stiamo cercando di tornare al siamo solo noi attraverso la relazione che passa anche attraverso il voto referendario se prima o poi ci diranno quando si andrà a votare ma soprattutto nell'incardinare e nello sviluppare la legge relativa al nuovo diritto al nuovo statuto dei diritti dei lavoratori perfetto, allora io le auguro buon lavoro appena iniziato da segretario provinciale e per la campagna referendare che avete presentato pochi giorni fa la ringrazio per la disponibilità grazie a lei ringrazio la segretaria provinciale della CGL Emanuela Gozzi ringrazio i telespettatori TVQ per la pazienza che ci hanno concesso e buona continuazione con i programmi di TVQQ grazie a tutti Grazie a tutti.